Buongiorno amici della Rana, siete in partenza per le vacanze? Perché non portare con voi la vostra musica e i vostri film preferiti? Vi proponiamo TV e DVD portatile Philips PD7005. Guarda i tuoi programmi televisivi digitali in chiaro con il ricevitore TV digitale integrato su questo lettore DVD portatile. Grazie allo schermo widescreen LCD da 7 pollici potrai goderti fino a 3 ore di filmati, musica e foto mentre sei in viaggio. Nella confezione è incluso l'adattatore per auto. Parti per le vacanze con divertimento e buone vacanze da tutto il team Larana. In vetrina troverete anche audio speaker Samsung DA E650, sistema audio wireless con dual docking dallo stile inimitabile qualità audio senza uguali. Ascolta la tua musica preferita quando vuoi con la massima qualità. Auricolari Wireless Plantronics Backbeat Go. Gestisci da un unico auricolare Bluetooth le chiamate e la musica dal tuo smartphone o tablet. Infine lettore MP3 Sony NWZ Walkman da 2GB con USB. La ricarica è rapidissima ed è dotato di led lampeggiante a colori e di una comoda clip per fissarlo ad abiti e borsa. Vi aspetto nel negozio online Larana.it per queste e moltissime altre promozioni.